per oggi? Sì, partiamo dal segno del Sagittario, la luna transita proprio lì in casa vostra, è una luna che vi mette chiaramente di buon umore, è una luna vicina a Saturno, quindi il senso del dovere sarà prevalente proprio in questa giornata, avrete voglia di sbrigare con attenzione tutto ciò che riguarda il vostro lavoro, le pratiche che riguardano il vostro lavoro per poi dedicarvi anche all'amore, ai sentimenti, perché c'è bisogno un po' di recuperare il giusto feeling, la giusta armonia nel rapporto di coppia, un'armonia messa un po' in discussione da questa venere nel segno dello scorpione che tante volte vi fa sentire prigionieri di un rapporto sentimentale, perché inizia magari a starvi un po' stretto, ma sotto questa luna avrete la possibilità anche di rivalutare certi rapporti. Andiamo al segno del capricorno.